Il cantante Vasco Rossi è stato tradotto in cella di isolamento dove dovrà restare rinchiuso per 22 giorni per riflettere sulle sue composizioni ritenute diseducative e forvianti per i nostri giovani che devono restare all'oscuro di certa realtà. La decisione del giudice è inappellabile. Il rocker non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Rossi Vasco, lei è condannato a 20 anni di carica. e lei è condannato all'ergastolo in nome del popolo per bene, dei guardiani della morale e della salute pubblica. La condanno a rubo. e lei è condannato a 20 anni di carica. e lei è condannato a 20 anni di carica. e lei è condannato amapżyta e felice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.